Da ospedale al luogo incantato, viaggio nel pianeta addormentato. È il film che spiega, attraverso il linguaggio fiabesco, cosa accade ai bimbi che entrano nel reparto di pediatria dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. È lui che racconta al bambino quelli che saranno i luoghi che incontrerà, i personaggi che incontrerà e le procedure terapeutiche cui verrà sottoposto. Questo progetto nasce da quando i bambini che devono essere sottoposti a intervento chirurgico sono ricoverati nel reparto di pediatria. I dottori di questo reparto che daranno l'ok per fare l'intervento chirurgico non sono più i pediatri ma il dottor Paspartout. L'anestesista diventa il dottor Sognidoro e il lotorino che è quello che dovrà intervenire sulle adenoidi e sulle tonsille del bambino diventa per l'occasione il dottor Ugo Ladoro. Il bambino salirà non più sulla lettiga ma sull'astro di ligenza accompagnato dai fantastici clown dottori. Di ritorno il bambino diventerà come Teo un bambino forte che potrà ritornare nel suo pianeta dopo aver vissuto questo viaggio fantastico. Alleviare da ansie e paure la presenza dei bambini in ospedale e dei loro genitori è l'obiettivo del progetto pilota portato avanti da anni dal nosocomio pesarese ma il cortometraggio presentato da poco si prefigge anche un altro traguardo. Il video è stato realizzato da regista pesarese Maurizio Nardelli e l'intento e lo scopo di questo video è di poter divulgare questo progetto a livello nazionale quindi esportarlo anche negli altri reparti pediatrici sparsi nel nostro territorio. L'ospedale non più come luogo di sofferenza ma come uno spazio magico dove il bambino vive un'esperienza particolare.